La Ministra ci ha ricevuto e ci ha dato la possibilità di consegnare una lettera alla sua attenzione. È stata molto attenta e sensibile alle nostre tematiche perché si è resa conto che quello di cui vogliamo parlare non è il destino di una piccola scuola di provincia, ma il ruolo e l'idea che abbiamo di scuola e di conseguenza di società e di convivenza. Non mollano le mamme di Matrignano, la scuola che il Comune di Arezzo ha annunciato di voler chiudere per problemi strutturali. Il Comitato ha incontrato il Ministro Valeria Fedeli e gli ha consegnato una lettera e oggi in Consiglio Comunale c'è stata anche la presentazione di una interrogazione. Stamattina ho presentato semplicemente un'interrogazione in vista dell'incontro del 9 maggio, semplicemente chiedendo se c'erano degli aggiornamenti. Devo dire che la risposta da parte dell'assessore è stata piuttosto riottosa, nel senso che ha preso questa mia interrogazione come una polemica politica e come un sentimento, come un atteggiamento non responsabile da parte delle forze dell'opposizione. Non penso che sia così, noi chiaramente siamo preoccupati di questo tema, siamo al fianco dei genitori e dei bambini di Matrignano e quindi chiedevamo semplicemente delle risposte, delle informazioni aggiuntive che non sono arrivate. Abbiamo chiesto anche che finalmente il Sindaco prenda una posizione su questa vicenda, ma purtroppo, ahimè, anche su questo aspetto non abbiamo avuto risposte. Insomma, mi pare che per chi ha governato tanti anni e non si era accorto che le cose vanno messe a norma, ora forse la cosa migliore è un decoroso silenzio e l'attesa insieme di trovare una soluzione. Fermo restando due punti, cioè che il primo non si rimanda alla messa a norma degli istituti e quindi dell'edilizia scolastica perché si è fatto per troppi anni, perché chi oggi propone delle variazioni di bilancio ha governato dieci anni e non si è posto il problema. Due, noi abbiamo già garantito in questo momento a cose a bocce ancora ferme il numero esatto di disponibilità di posti in quell'area per quanto riguarda le famiglie, quindi ovviamente i bambini, perché comunque sia nessuno di noi si è posto il problema di non dare gli stessi servizi in quell'area. Il prossimo incontro con l'amministrazione comunale e le mamme di Matrignano è in calendario per il 9 di maggio.